e andiamo che ti ha mangiato fissi? ah non me lo ha pure un po' di cuore te c'è? c'è una cera da peppinigli figli giuse figli giuse o figli giuglie? ah i due piccolini insomma e poi a carte devi giocare a carte avete giocato a carte? ti sapete giocare tu? bravo e se i due più piccolini l'altro sono tutti grandi uno si chiama Valerio francello giusefina si chiama un pochino in basso per lo so lo figli giusefina aspetta c'è l'altro ha spaggito lì che mi tolge i grazi e se Valerio e figli Giulia e se sera andavano a mare alle otto tutti e due andavano a mare fino a mezzanotte dalle otto fino a mezzanotte non sono loro due una festa ah con i genitori allora no senza i genitori no senza i genitori i loro amici con la comune con la comune con la comune con la comune ah si perché i figli giusefina vanno pure alla colonia non è andato non è andato flavio si chiama no è impossibile è impossibile vabbè sono arrivato tre lo pubblico perché è la prima che cosa hai fatto? è una figlia di una colonia è una figlia di una colonia è una roba io pure per mare mi spagno ah se no fino a fare la colonia fino a fare la colonia l'altro? no sembra mare chiaro fino fino e la vogliono? la vogliono dalla mattina dalle otto fino alle due e la mamma è questa c'è la guarda la mamma la mamma è questa ma ti prendo la figlia tanto l'altro che c'è uno di berone quando? buuuh un mesetto fattico ma non è che c'è cosa quando c'è uno dei campiapri e c'è uno da campiapri ah ah qui dentro da campiapri c'è pochi i campiapri in paese dei palocchi come tutti gli altri anni come tutti gli altri anni ma c'è pochi colt e un cactu così il nostro ci siamo sopra di mezzo 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 vieni qua da la macchina vieni qua da la macchina vieni qua da la macchina e ho ucciso da la macchina e fare il tuo sport ma penso la pubblica perché posso arrivare pure primo con la macchina con la macchina allora il名 è un'altra spor Ho vinto, sono arrivato primo, sì, sì, ma sono pubblico, ho vinto 10, se voglio andare su, dopo devo andare, ancora ne voglio fare, poi devo andare su, devo andare su, devo andare con un'azienda, sì, ma come vedo, è un'azienda, sì, ma è una prima cosa, sì, ma è un'azienda, Grazie a tutti.